lo sapevo buonasera non parlare lasciami godere questo momento volino per favore non è il momento di scherzare lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno che il compagno bel fiore avrebbe bussato alla mia porta in cerca di qualcosa in cerca di suo figlio esattamente mia figlia quale il violento ripeto quale vittorio romano lo hai sgaziato e che volete da lui ha rapito i nostri figli che ha fatto no non lo sappiamo è che enrico e renato sono spariti e pare che siano stati visti con vittorio romano sì vittorio romano sì ma insomma lo sa dove è suo figlio magari stanno insieme lo stiamo cercando da ore siamo preoccupati e se mattina non si vede il cantiere se vuoi togli l'altro pure la lapa non mi fa niente io non lo so dov'è però se me la riportate la lapa mi fate un favore buonasera io non lo so dov'è però se me la riportate la lapa mi fate un po' di più io non lo so dov'è però se me la riportate la lapa mi fate un po' di più